Oh, ottimo! Sembra uno dei nostri a terra. Uno di noi è morto, qua giù. Una piantina utile. Non sono qui. Posso respirare di nuovo. E pensare che le macchine erano state create per servirci. Vado a controllare. Ah? Oh no. Si sono arresi. Immagino non fosse nulla. Siamo al piano di riserva. Oggi siamo a ridare la madre. Lasciati in ora! Attenti laggiù! Allora! 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 Grazie a tutti. 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 Compagnia! Compagnia! Ma che... Sono ancora sulle mie tracce. Vuoi continuare a nascondere? Problemi! Dobbiamo inviare il segnale! Grazie a tutti. Segnale distrutto! Non posso chiamare rinforzi! Noi... L'abbiamo fatto per la madre! La caccia è finita! Strano... Ho fatto un sogno in cui c'eri tu... Correvi verso una macchina con la lancia pronta... qui abbiamo finito! Il vento porta il profumo del nuovo giorno. Noi... 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 Ti mostreremo la vera forza! Ti mostreremo la vera forza! Ho sentito qualcosa! Grazie a tutti! Noi... 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 Non avete di meglio da fare? C'è qualcuno? Ho un corpo da questa parte! Non siamo soli! Un cadavere! Uno di noi è morto qua giù! Chissà dove è andata! Su, andatevene! Un cadavere! Basta così! Sono fuggiti davanti all'ombra! Un cadavere! Potremmo averli scacciati ma non ci scommetterei! Sarà una brutta giornata per te! Ho già troppe cose! Aiutatemi, fratelli! Per in ora! Finalmente! C'è un cadavere! C'è un cadavere! Non posso portare altro! C'è un cadavere! C'è un cadavere! Per un vecchio rimedio! C'è un cadavere! 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 Tu quello a destra. Quando riprenderemo Meridiana, mi fa la loro decadenzione. Io penso a quello a sinistra. Una volta mi rotolavo nella pigrizia. Ero debole. L'eclissi mi ha reso forte. Ero debole. Altri due. Tu pensa a quello a sinistra. Mi ha visto. Si comincia. Laggiù. Vedi quel rifugio coperto? Li hai visti, quei corruttori? Concentrati, Varl. Quel rifugio è pieno di vampa. Ce n'è un'intera scorta. Se la innesco, l'esplosione distruggerà quei corruttori e farà crollare le mura. Una bella breccia per la carica dei Nora. Da qui siamo lontani. Dobbiamo avvicinarci. Io mi avvicino. Tu torna indietro. Di a zona del piano e portali da quella parte del cerchio. D'accordo. Quando crulleranno le mura, mi romperò per primo dalla breccia. Ora devo soltanto fare in modo che accada. Se ci riuscissi senza fare rumore sarebbe più facile. Devo solo trovare una visuale su quella vampa e colpirla. Qualche altra settimana e avremo il punto. Questa è un'intera scena. Devo essere pronto. Un'arma da impugnare per l'ombra. C'è un altro qui! Aspettate, chi è a terra? C'è qualcosa qui? No, no, no. Da qui dovrei riuscire a colpire la vampa. Non posso più nascondermi. Temi in ora. Non posso più nascondermi. 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 Nascondermi. Non posso più 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 nascondermi. Nascondermi. Non posso più nascondermi. Grazie, Aloy. Fa tutto parte del mistero che devo risolvere. Broste che hai insegnato bene. Androf, tu lo conoscevi? Molto tempo fa. È abbastanza da sapere che fosse un brav'uomo. E perché l'hanno esiliato? Quali crimini ha commesso? Vorrei potertelo dire. Ma solo le alte matriarche conoscono la storia. Sì, lo so. Beh, ora dovrei andare. Grazie, Aloy. Che la madre benedica i tuoi viaggi. Ovunque ti porteranno. Tu non tornerai indietro con noi, vero? No, non penso. Sono contenta che tu abbia avuto quello che cercavi, Varla. Ma io no. Non ancora. Ehi, lo so che devi andare. Sei una cercatrice, in fondo. Ma semmai dovessi ripassare da queste parti... Che cosa? Sarà bello rivederti, tutto qui. Credo che ci raggrupperemo a corona della madre. Ti incontrerò lì? Forse sì. Ci vediamo. Ciao. Ciao.